Perché non lo lasci giocare a football, Troy? Vuole solo essere bravo come te. Non voglio che sia come me. Voglio che la sua vita somigli il meno possibile alla mia. Tu sei l'unica cosa decente che mi è mai capitata. E questo glielo auguro. Ma non gli auguro nient'altro della mia vita. 17 anni fa ho deciso che non avrebbe praticato nessuno sport. Non dopo quello che mi hanno fatto nel baseball. Perché non ammetti che eri troppo vecchio per giocare da professionista? Perché non lo ammetti e basta? Non venirmi a dire che ero troppo vecchio. Ero solo del colore sbagliato. Diavolo, ho 53 anni. E potrei fare molto meglio di Selkirk. Anche adesso. Come potevi giocare a baseball? Avevi più di 40 anni. A volte non riesco a farti ragionare. Io ragiono, donna. Ragiono abbastanza da impedire a quel ragazzo di farsi del male con lo sport. Fai troppo la chioccia con lui. A preoccuparti se può o meno piacere alla gente. Tutto quello che quel ragazzo fa, lo fa per te. Vuole che tu gli dica ben fatto, figliolo. Tutto qui. Non ho tempo per questo, Rosa. Lui è vivo, è in salute. Deve sbrigarsela da solo, come ho fatto io. Nessuno lo terrà per mano quando affronterà il mondo. I tempi sono cambiati, Troy. Le persone cambiano. Il mondo sta cambiando e tu non riesci a vederlo.